Da dove sei? Sei Danchar. Ho il mio nome Jakub, sono in Polscia, sono anche portugalsiasi. Ora sono in Grusia come volontariato dell'Europa Solidarność. Ciao, mi chiamo Magnus, vengo da Berlino e absogno il mio corpo europeo in la organizzazione Droni in BDC. Mi chiamo Yolanda, sono italiana e sto facendo volontariato in Georgia per l'organizzazione Droni. Hey, ich bin Laurence e sto a dir in Tilburg in Niederlande. E ich werk hier in Tbilisi mit Droni. See you in Expo Georgia on 15th of December for Europafair. Gamo pena Evropa.